Ciao Accontentati del tempo che hai a disposizione per dedicarti alle tue passioni e a ciò che ti fa stare bene Se devi fare un qualcosa che richiede sacrificio perché giustamente non rientra tra i tuoi piaceri Ma devi farlo Non dare il contentino a nessuno con quelle azioni Pensa soltanto di star facendo qualcosa di buono per la tua anima I furbi, i vigliacchi, coloro che sfuggono alle responsabilità della vita Non riceveranno mai in cambio quello che se hai agito bene riceverai tu in ogni momento in cui ti dedicherai al tuo tempo Quelle che ci sembrano amare prove sono spesso benedizioni sotto mentite spoglie Oscar Wilde A domani